No, ma mi sa che la gente è qui, è qua, mi sa che la gente è qui, è qui, è qui. E' diverso. E' un grande dibattito adesso la scrittura, è inutile o inutile? Si parla di beni comuni, inutili, quelli che apparentemente forse non fanno parte di un sistema produttivo, consumistico in questo senso. Però noi sappiamo, ma ce lo diceva già anche Rodari, e adesso vi leggo questa teoria di quanto invece sia profonda questa, e quanto viene bisogno di questa inutilità. Le fiabe, diceva Rodari, servono alla matematica come la matematica serve alle fiabe. Servono alla poesia, alla musica, all'utopia, all'impegno politico, insomma all'uomo intero e non solo al fantasticatore. Servono proprio perché in apparenza non servono a niente, come la poesia e la musica. Servono all'uomo completo. Se una società basata sul mito della produttività e sulla realtà del prodotto ha bisogno di uomini all'età, fedeli esecutore, intelligenti di produttore, conosce gli strumenti senza volontà, vuol dire che è fatta male e bisogna cambiarla. Per cambiarla occorrono uomini creativi che sappiano usare la loro immaginazione. E questo ce lo diceva già Rodari, quindi c'era sempre la poesia e la fiaba, ma possiamo ovviamente definirla anche sulla cultura ed arte. Grazie. Grazie.